A breve il Presidente del Tribunale di Lecce potrebbe essere trasferito ad altro ufficio. La decisione è attesa dal Consiglio Superiore della Magistratura, che dovrà pronunciarsi sulla scorta dei pareri emessi da due organi, il Consiglio Giudiziario, di cui facevano parte tra gli altri giudici Alcide Maritati e Cinzia Vergine, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, presieduto da Luigi Rella. La poltrona vacilla dopo il procedimento disciplinare avviato dal CSM per la presunta incompatibilità di Lamorgese con la carica, incompatibilità che deriverebbe, secondo quanto valutato dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dalla parentela col figlio, avvocato che esercita la professione forense nel distretto di Lecce. In particolare la verifica avviata avrebbe permesso di accertare che il figlio di Lamorgese avrebbe 193 procedimenti pendenti al Tribunale di Lecce, cosa che sarebbe sufficiente a mettere in dubbio l'immagine di imparzialità di un magistrato che ricopre una carica direttiva così importante. Anche la figlia e la nuora di Lamorgese sarebbero avvocati del Foro di Lecce, ma in questi casi la presunta incompatibilità è stata dichiarata insussistente dal momento che la prima non esercita, la seconda si occupa invece di giustizia amministrativa. Tutte queste possibili incompatibilità non sarebbero state segnalate da Lamorgese al momento del conferimento della carica nel 2009, il mandato, che normalmente dura otto anni, ora è in discussione. La parola passa al CSM che dovrebbe decidere a breve.